Invece c'è in questo gruppo chi segue Tifa per una squadra che da qualche anno c'ha un po' di difficoltà nonostante questo grande arrivo della scorsa estate di Murigno insomma sei romanista, Francesco come si sente un romanista che nonostante l'arrivo di Murigno continua comunque a penare, a star lì, non riesce mai a migliorare la propria classifica? Io come tutti i romanisti sono un eterno sofferente ha finito il campionato a giugno, sogni, sogni perché poi arriva Murigno, arrivano due o tre giocatori nuovi, Abram, così poi a settembre, ottobre, novembre, poi vedi a metà campionato e te stufi perché te stufi e non segui fino a giugno che riparte il calciomercato e quindi ti riprende la passione È un circolo che non finisce mai insomma No, io sono sfegatato proprio però Sei da stadio insomma Sì, sì, sì Bene, bene Allora, a questo punto, prima di ricordare l'appuntamento appunto su Netflix io volevo chiedere una cosa Allora, Barlume, ci risiamo quindi? Scherzi, sì, sì, Barlume, Evergreen Ci divertiamo talmente tanto, Rohan Johnson il regista, meraviglioso, tutto attaccato addirittura, meraviglioso I bimbetti, benvenuti, insomma, sì, 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 la Fusco, la Tizzi, vai, Guzzanti, Fresi, ma che cazzo vuoi di più? Eh, un Ducano Tra l'altro, Fresi l'avevamo intervistato ottimamente con Erika Quidi e ci avevano detto che loro non vedono l'ora durante l'anno di ritrovarsi sul set perché per loro è una vacanza Confermi, ok, perfetto Invece, Francesco, ti rivediamo a Casa Tutti Bene 2, ci sarà il sequel, quindi? Ci sarà, ci sarà, gireremo, penso, breve e poi usciranno altre cose, magari prima di quella seconda stagione Però ci sarà, insomma No, ci sarà, ci sarà Bene Te, Francesco, invece? Io a marzo, forse, dovrebbe uscire un film che ho fatto per Rai 1 È la storia ambientata nella Roma degli anni 50 È la storia di questi atleti, i primi atleti paralimpici Una storia vera Quindi sportivo Sì Quindi ritornerai qui per la seconda interrogazione, quindi attenzione E poi il prossimo anno dovrebbe uscire un horror che ho fatto, si chiama Piove Di Paolo Strippoli Quindi, insomma, pure te sei molto... Senti, ma è vera questa cosa che poi è vero, insomma, in realtà Quindi è solo una conferma che ti chiedo Con l'avvento di Netflix, insomma, visto che questo film appunto Sarà su Netflix Si è dato grandi possibilità ai nuovi giovani, appunto, di approdare Di farsi vedere, giusto? È stato fondamentale l'arrivo di queste piattaforme? Sì È stato fondamentale, sì, perché A parte che c'è una grossa competizione adesso tra i giovani Cioè, il livello si è alzato tantissimo Ci stanno un sacco di attori giovani bravissimi E quindi anche per me, ma per tutti, diventa sempre più difficile affermarsi E il cinema è sempre il cinema Perché andare al cinema e vedere un film al cinema È un'emozione speciale Però c'è Netflix, come altre piattaforme Ma soprattutto anche Netflix Che ci dà la possibilità di andare In 190 paesi Doppiato in tantissime lingue È da vedersi in Giappone Ma non è vero, è una bella idea questa qua, giusto? Benissimo, intanto vedete l'Unitalia Che uscirà su Netflix dal 4 marzo Quindi il filo invisibile Su Netflix è tutto il mondo Tutto il mondo, certo, ovviamente Quindi lo guardate prima qui Poi è andato a Parigi e lo diventa a Parigi Poi è andato a New York Esatto, lo vedete un po' dappertutto Grazie ancora di essere stati i nostri ospiti E quindi a presto Grazie a voi E viva lo sport Sempre Un saluto a tutti Ciao